o la gente siamo all'interno di ttl premium il canale privato di the trading online dedicato al betting e alla betting exchange break for world cup è un format dove arrivano delle bettate direttamente sul vostro canale telegram e quindi dei messaggini vi arrivano sul telefono e dovete semplicemente in maniera molto ignorante copiare le bettate che arrivano né più né meno 15 bettate inviate dal 14 novembre 2022 quindi in meno di 10 giorni tre perdite 12 vincite il 9.68 per cento di ritorno netto sul capitale a disposizione 968 euro il profitto ottenuto se per ogni bettata lo stake adottato è stato di 100 euro questo quello che è avvenuto questo quello che sta avvenendo all'interno del canale telegram di the trading online ttl premium canale privato dedicato come detto al betting e al betting exchange questo è quanto se volete iscrivervi il costo di 40 euro per un mese per 30 giorni e direi che visti i risultati che stiamo ottenendo ottenendo non è non è un investimento tanto selvaggio insomma fondamentalmente potete scrivermi via whatsapp 348 75 67055 tvs 2022 chiocciola libero punto it ci si diverte a fare queste bettate mettiamo da parte il divertimento dobbiamo essere dei meccanici dei robot c'è la bettata la faccio la eseguo non devo farmi prendere dalla pressione dall'ansia quindi se avere uno stake di 100 euro inizialmente mi fa avere dell'ansia della paura del timore inizialmente rischio anche solo due euro quando vedo che il sistema è un sistema efficiente affidabile che mi porta dei profitti che è facile da seguire facile da copiare a quel punto vedo che non ho troppi problemi di nessun genere a quel punto ci metto uno stake più importante più interessante più cospicuo e inizio ad avere determinate soddisfazioni tutto questo in realtà nulla di complicato basta semplicemente copiare le bettate né più né meno poi è chiaro che se invece che copiere la bettata comincio ad aver paura quindi copio una bettata poi ci torno indietro copro quella bettata faccio delle porcherie perché ogni tanto anche l'assurdità della nostra testolina ci fa fare delle cose insensate dobbiamo semplicemente seguire un programma un piano tutto qui nulla di più nulla di meno in questo caso bisogna semplicemente copiare aver fiducia e copiare non inventarci qualcosa non inventarci delle bettate che non ci sono perché e mi è successo anche questo delle persone mi contattano e mi dicono guarda che io oltre alla bettata che mi hai dato tu mi son trovato bene con quel giocatore e l'ho fatto altre tre volte altre quattro volte e non va bene ho fatto altre bettate simili a quella su quel torneo su quella manifestazione non va bene o meglio non è questo break for world cup è semplicemente un copiare le bettate senza aggiungerci nulla di più e nulla di meno copiare le bettate questo è quanto questo è l'aggiornamento e ovviamente vi terrò vi terrò continuamente aggiornati sul proseguio un po' di meno copiare le bettate senza aggiungerci nulla di meno copiare le bettate